perchè vuoi? no ah ho fatto anche il flugue il fanny flugue da 69 il fanny flugue mi ha sentito 1 2 3 dai ho detto che gli ho finito in questo livello e me ne valgo ma come diciamo eh si forse lo so non so se resto ancora adesso vedo io vorrei un graphic phone tutti insieme ah possiamo fare un graphic no possiamo in 3 quindi cosa? no niente penso a fare un graphic phone ma siamo in 3 quindi è abbastanza in me dai siamo in 3 è bello farlo in 3 è in 3 palloso dai di ago non morire l'ultima scelta io ce l'ho quasi morto sono dici dici quanti è temps Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.